Sono Simone Franceschini e questa sera vi presento la nostra mortadella, opera, prodotta a Castello di Serravallo in provincia di Bologna. Vi chiederete del perché di questa novità. Sentivamo il bisogno di portare tra i nostri prodotti anche la mortadella che è il prodotto che ci fa conoscere in tutto il mondo. Carni suine, solo nate da allevate in Italia e abbiamo fatto studi per arrivare ad un'ottima digeribilità. Senza poliposfati, senza trippini, assolutamente senza glutine e senza laftosio.